Per il migliore acquisto di questo mercato di parlare? Bisogna vederlo con i fatti piano piano, tanto alla fine quello che sarà parlare sarà sempre il rettangolo verde e il campo, però mi fa piacere essere tornato e più che altro tornato a rivivere le emozioni quelle vere. Quanto punti fa a rifiutizzarlo? Una buona prestazione in entrambe le gare? Come si fa a stare sei mesi e poi a fare due prestazioni così? Io sono abituato da sempre, da quando ho iniziato, ad allenarmi sempre bene, a dare il massimo e a fare il professionista e devo dire che mi ha aiutato molto in questi sei mesi ad allenarmi bene, a stare lì sul pezzo e non lo sono ritrovato. Poi comunque delle volte non lo so se arrivano per caso ma servono anche questi momenti per capire un attimino, per quantomeno ragionare e capire che si possono avere anche delle difficoltà, bisogna reagire e rialzarsi. Dalla tua parte attaccavano nel ultimo tempo il partitino, poi il Totaglina, velocissimo, però noi siamo riusciti a tenermi bene e anche moltissimo di esperienza, no? Vabbè, comunque loro, come ho già detto, avevano tutta gente di passo, tutta gente di qualità, infatti io ho visto le immagini prima della partita e avevo già guardato i loro attaccanti, comunque erano tutta gente di passo, veloce, bisognava accorciare e attaccarli subito, non farli partire perché dopo giustamente chiunque va in difficoltà, se li fai girare e ti fai puntare è un disastro. Poi a maggior ragione io che rientro, non sono ancora al top della condizione, rientro da un periodo molto lungo di pausa. Grazie mille, buona serata.